Il Codacons ha presentato un esposto alle procure della Repubblica di Roma e Napoli alla luce dell'ennesimo guasto tecnico ferroviario sulla linea ad alta velocità tra Roma e Napoli via Cassino. Stamane i treni hanno subito ritardi dovuti a limitazioni di percorso e a deviazioni su percorsi alternativi da Napoli a Roma, via Formia o via Cassino. I tecnici di RFI sono intervenuti per ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura ma a metà mattina i rallentamenti erano ancora forti, solo lentamente se tornati alla normalità. Questi ritardi sono diventati troppo frequenti, ha sottolineato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi a Trenitalia, ha scritto in una nota, si chiede prima di tutto di rendere pubbliche le informazioni sul guasto odierno e le cause che l'hanno determinato e poi di adottare provvedimenti nei confronti delle divisioni interne alla società che non hanno saputo prevenire e impedire la nuova giornata di passione vissuta dagli utenti delle ferrovie.